candigetta una femmina nata il 21 aprile 2018 il padre owen cr che oltre ad essere stato uno dei nostri migliori indigeni negli anni 2000 è già buon padre di prospetti la mamma è terraz che è una femmina di ganymede e iris di jesolo al secondo prodotto e proprio iris di jesolo è interessante nella linea materna di questa candigetta in quanto ha già prodotto l'ottimo zipriz 112 7 e numerose vittorie e arias una femmina da varenne che ha già corso in 1 e 16 e e Grazie a tutti.